Non si può risolvere un dramma umano collettivo con tecnicismi giuridici, quindi parlando soprattutto a Mazzara del Vallo, che è una località che è in prima linea in questa dolorosa situazione delle immigrazioni irregolari, si capisce che il problema va visto in un'altra dimensione, appunto quella del dramma umano collettivo, della necessità di non trasformare il Mediterraneo in un cimitero, come ha detto giustamente e molto più autorevolmente di me il sommo pontifici, della necessità di capire che con muri, che con mezzi militari in mare non si fermano delle persone disperate, che cercano di vivere in modo decente e quindi della necessità di porre in essere degli strumenti, è una responsabilità non solo dell'Italia ma dell'Unione Europea, che facciano fronte con un ben più ampio respiro a questa situazione. Ecco, una simmetria fra quella che è il diritto a emigrare rispetto al diritto all'immigrazione, la frontiera, il nemico, oltre che quelli che possono essere definiti i trafficanti. Sì, il trafficante è un criminale che sfrutta la debolezza altrui e quindi giustamente deve essere sottoposto a sanzioni penali, ma in fondo il problema è dato da una frontiera. Se non ci fosse una frontiera, un essere umano potrebbe viaggiare in condizioni di sicurezza e non sarebbe costretto a rischiare la vita in viaggi che sono delle avventure che spesso purtroppo si concludono tragicamente. Ripeto, un essere disperato non è fermato da una frontiera e occorre dargli le condizioni per poter porre le basi per una esistenza accettabile. Grazie a tutti. Grazie.